L'idea è molto 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 importante, le squadre stanno già per scendere in campo Per Musacchio Centrale per Luisa Alberto, a spazio si può girare, Correa taglia la palla dentro Correa, Correa ancora, controcolle, si gira, Luisa Alberto, il sinistro La parata di Audero, la parata di Audero La palla è recuperata dalla Lazio, Luisa Alberto Luisa Alberto attenzione vediamo se ci riesce a servirlo o no Ma non abbiamo recuperato, Milinkovic fa il movimento immobile C'è anche Luisa Alberto, viene servito da Milinkovic Non ci rientra sul destro, Luisa Alberto Luisa Alberto 1-0 Lazio, 1-0 Lazio Ha trovato un palleggio molto più fluido Dentro la palla a rasoterra per Milinkovic, per Luisa Alberto Fuori area che non riesce a riservere, ancora Luisa Alberto Alza questo pallavetto per immobile, sinistro il volo Oh, sbaglia Ciro Acerbi Lungo a cercare lo scatto di immobile Che lo trova, immobile, in area di ricordo, immobile Sul sinistro, immobile e sinistro, ancora Audero Sulla rispinta Correa cerca di testa Di guagliare Lanzi che riesce a stoppare in area di ricordo Ma Acerbi fa buona guardia, perché ha fatto questo Acerbi? Acerbi ha fatto una stupidaggine Recupera la palla la Sampdoria Ancora Adrian Silva, fa fuori un avversario Si appoggia a Yankto Yankto cerca sulla sua verticale Augello che la mette in mezzo Manca l'intervento Marusic, attenzione Augello in area di ricordo, guagliare la di testa Mi ha riscato parecchio Patrick Milinkovic con la suola, si gira Serve Patrick, che si è fatto un po' di spazio a destra Di prima ancora per Marusic, entra il rigore Marusic, mezzo immobile Anzi no, Murici Cicca l'intervento Murici Che occasione per la Lazio Grazie a tutti